In Toscana sono stati venduti 436.280 biglietti della Lotteria Italia 2023. Nella tradizionale estrazione di Befana, tre premi di seconda categoria da 100.000 euro, 19 premi di terza da 20.000 euro, sono finiti nella nostra regione. Uno dei biglietti da 100.000 euro toscani estratti, il tagliando M245885, è stato venduto a Pietrasanta, mentre fra i biglietti da 20.000 euro estratti si segnalano il P266680 venduto a massa, l'L109718 a Camaiore, l'L309219 venduto a Lucca e l'L265551 venduto ancora a Pietrasanta. In Toscana la fortuna ha premiato in particolare Civitella Valdichiana, dove si contano un biglietto di seconda e due di terza categoria, ma anche Figline è incisa Valdarno oltre a Pietrasanta, entrambe con un biglietto di seconda e uno di terza. Per i vincitori, ricorda Agipro News, ci sono 180 giorni per riscuotere i premi.